Ciao a tutti e bentornati con un altro portato di Wolfenstein Youngblood, sono le ferie e continuiamo con le missioni secondarie Come? Ancora Brother 2? Ok Altre missioni secondarie? Senza darmene una alla volta magari datemi tutti assieme no? Bastardi maledetti Trovo il proto-hund Trovo il proto-hund, accedi alle fogne Ah eccolo qua, il Robo Mortar Questo qua dovrebbe essere un boss secondario in teoria Perché sono molto molto curioso di ucciderlo O almeno di provarci Proviamo, proviamo Proviamo ad andare di qua Anche se stiamo andando un po' alla cieca in realtà Ah è giusto dai È qua sopra Ok l'abbiamo trovato Uh aspetta che potenziiamo un po' di armi visto che ci siamo Ok E basta perché non è la cosa che potevamo potenziare con quei soldi lì Bene Ah sei tu Che mira del cazzo Ti ho mandato un nemico Ti ho mandato un nemico Dove cazzo scappi? Dove sta andando sto infame? Ma che cazzo? Ma da dove va? Focca fucca Focca fucca Focca fucca Geni, geni Cazzo Vediamo se questo qua ti fa male Non sembra tanto in realtà Ho comunque troppo pompa per i miei gusti Andiamo di pompa Che non sbagliamo quasi mai con questo E vai Vabbè dai pensavo peggio a rete Era un super robot praticamente Sei più forte ma Niente di spettacolare Avrei avuto anche la sfida giornaliera Di rompere un po' di auto in realtà Ma mi sa che l'ho fatta però Vabbè Come si torna indietro adesso Di qua direi Almeno spero Sì dai Siamo nella direzione giusta direi Però 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 No però niente Io direi di andare a fare un'altra missione Visto che siamo in giro Prova il proto-hound Vediamo se questo qua è un altro boss Proto-hound Penso di sì comunque Che sia tipo un mastino robotico Con delle armi in più Una sorta di boss secondario Per l'appunto Vediamo un attimo Quanto manca per la maestria del pompa Per curiosità? Sei? Dove ce ne vuole ancora allora? Arrivare ai dieci? Ragazze Il panzerhound che cercate È in uno dei contenitori Dovete controllarli tutti Cazzo Abbiamo fatto sempre il solito giro più lungo È l'arma sbagliata questa Sì lo so È che ce l'hai in mano Per cui alla fine Fa lo stesso Ops Oh finalmente No troppo alto Passiamo di qua Non c'è problema Spera non sono troppo distanti Questi Questi cosi Viene Vabbè Diciamo da guardare nei container Capito? Non è il momento giusto forse Oh cazzo È questo? Oh porca vacca Subito l'abbiamo trovato Mi venisse del bene Aiuto Poi ho bisogno di aiuto Anch'io cazzo Tutto l'autofunda Piuttosto semplice in realtà Povero Troviamo la sparta box Bene Attacco il drone Attacco il drone sorella Bene E qua siamo a posto Abbiamo fatto un'altra missione secondaria Quasi quasi Ne farei un'altra ancora Per poi andare alla base Quasi 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 Vediamo se c'è qualche missione secondaria Che da fare Senza tornare Accedi alle fogne Accedi alle fogne Entra nella prigione Vai a brother 2 Questo qua Dai Facciamo questo Facciamo questo E vediamo se vengono fuori altre missioni secondarie E poi adesso c'è Il contatore delle statistiche In realtà Per vedere quanto abbiamo fatto Delle missioni secondarie Guarderei Sono molto curioso Vediamo Vediamo Corri schede Ma non mi ricordo come si fa Proprio non mi ricordo Proprio non mi ricordo Sì Ops E vai Devo ricordarmi che anche This craftwork è buono come cosa Raggiungi la prigione Eh già Perché ne abbiamo già sbloccato Questa scorciatoia Scusate Altrimenti avremmo dovuto fare Un giro Molto lungo Ragazzi I comandi delle porte Del blocco di Juliane Sono vicino alla sala di comando Del corridoio principale Usateli per aprire Tutte le celle Qualche potenziamento Ah E l'evento Ma i lingotti dò come cazzo ci prendono maledetti? Non è che mi informo Buono questo Ormai vabbè qua non possiamo fare niente Bene così Andiamo avanti Purtroppo i soldi scarseggiano sempre Si spendono molto velocemente quelli L'abbiamo notato Upsi Grazie a tutti. Ecco i comandi della cella. Ho bisogno di aiuto con i comandi della cella. Eh, sblocchiamola dai. Ha funzionato, Sof. Ok. Teni permanenti più 2%. Una volta diventa una bomba. Ah beh, 7 colpi. Eh, dolorosi però come colpi. Ehi, 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 ehi. Chi c'è qua? La spara che ho di per eccellenza, eh. Perfetto. Abbiamo liberato anche i prigionieri. Bene. Soldi non ne abbiamo. Maestria. Uno. Wow. Non l'ho mai usata questa arma. Mai usata. Perché spara dei colpi troppo lenti, cazzo. Troppo lenti. Ora che arrivano i bersagli, i bersagli di frattempo andare in spiaggia, tipo, per tornare indietro. Va bene. Sto bene. Andiamo, sorella. Ho più lato le telecamere fuori dalla torre. Eh, sì. Ci sono due da me. Stanno scappando. Mi sembra di vedere Giuliane, l'amico di Maria. Brave, ragazze. Chiaramente che stiamo qua non è fatta per le corazze così. Però vabbè. Per uccidere, uccidere, uccide la fine. Però. Non proprio efficace, ecco. Andiamo via. Facciamo fare un'altra missione? Sabotaggio dei lanciatori. Quasi qua. Ci facciamo anche questa, dai. Sperando che non sia... in culo da qualche parte, tipo, come dicono. Vai. Ai 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 ai. Ai ai ai. Di qua e di là. Di qua e di là. Reneticamente. Mamma mia. Andiamo lassù e colpiamo. Non mi ha raccorto della tua presenza. Cazzo. L'hai lanciata tu, Jess. Sì. Vabbè, è un cazzo, no? Aio. E andiamo su. Nel punto di prima, cazzo. Però un po' alla volta. E' un po' alla volta. Ehm. Arabica, c'è su brother 2. Va bene. è fastidiosissimo come cosa molto fastidiosa aiuto? che cosa stai facendo? Brava Tieni Va Non credo di averlo preso in realtà Fa finta di avere male quello lì Mi sento di nuovo meglio sorella Andiamo di qua Eh Non c'è niente qua dentro Ti togli Come? Ah ok ecco perché Bene Devo anche distruggere le statue di Hitler come obiettivo ci penso Lo faremo Lo faremo eh Ok 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 Vabbè Chi se ne frega dei nemici Oh questa parte qua Ho capito Arrampicati Ecco perchè arrampicati C'è proprio da arrampicarsi qua Saltando di qua e di là No Non così magari Ecco anche Il segnale di intesa in realtà è molto importante Perché delle volte può fare la differenza Sta male eh Bastardo infame Sì Ma dove mi devono arrampicare Ah distruggi Ah ok Ah brice Sì No 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 Non andare proprio indietro Cazzo Benissimo Eh già Bella eh Vediamo se con questo Ci riusciamo ad arrivare Fì da E vai Vabbè Comunque non ci interessa Torniamo indietro noi Qua Qui Uh Possiamo tornare indietro Tanto altri obiettivi Qua Brother 2 Non ce ne sono Vediamo un attimo È stato di Hitler Ah qua è da fare Vabbè Allora lo facciamo Non c'è problema Andiamo giù Ops Ho distruttato di Hitler Senza volerlo Ah forse ho già distruttato in passata Di che avrebbe decisamente più sand Cazzo ma quante siete Oh Aiuto Che casino No cazzo Dove devo andare Ah già di qua E smemorato Però mi sa che le statue di Hitler Non sono qui Forse le statue di Hitler Sono un po' dappertutto Vabbè Noi scendiamo E vediamo se ce le segnala Se no Mi sa che sarà una delle ultime cose Che farò Distruggere 12 statue Figuriamoci E metto a cercare le dappertutto Mi dispiace ma sarebbe Non le compatisco Pochi soldi Pochi soldi Oh cazzo Ho finito i colpi Ma che cazzo Le vuoi prendere St'arma qua o no Ah beh Nove colpi Allora Allora Non sono mica convinto Secondo me dobbiamo uscire Ah no cazzo non si può Allora andiamo di qua dai A meno che vediamo un attimo Perché dice di tornare indietro Ma dove sono venuto cazzo Cazzo Ma se prima non c'era l'obiettivo Brutte merde Se prima non c'era l'obiettivo Perché adesso me lo da lì Mi venisce del bene Vediamo un attimo Oh già Vedete c'è di scendere di là Ma che cazzo Ma perché è sparito l'obiettivo Porca vacca No vaffanculo Anche l'obiettivo Le ho capito Io dai Va bene cazzo Devi riparare l'armatura Sapelling gate Sanguino come un maiale sgozzato Ah non ci siamo Torniamo indietro Mi ha rotto le palle Non ci siamo proprio Fanculo l'estate di Hitler Torna la Maria Eh Perché non si aggiorna Ma va cagato Ah Che fastidio Che fastidio Travece Bene L'apocalisse Gioco baggherello Non so se sia stato inteso così Ho dei dubbi Onestamente Non ci siamo Dai va Dorniamo indietro Vaffanculo anche i nemici Ma per dove cazzo Si esce Da qua no Questo è abbastanza chiaro Da qua forse Chess vieni qua Brava Dai lasci di fuori Si rompe i coglioni E siamo a posto Vediamo un attimo Oh Grazie Due di dodici Eh vabbè Chi ce ne frega Non mi importa Onestamente Voglio andare alla base Però che Proviamo qua Oh Oh Hello Oh giù 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 c'è uno stufo voglio andare via ma cazzo sei ragionato quel posto là no dai di qua questo labirinto maledetto cazzo mamma mia che labirinto i posti con una mappa che viene fuori un po' alla volta non si capisce il motivo il portale del drone ma purtroppo non ci sono computer dove mettere il disco qua va bene lo faremo più avanti dai non mi interessa voglio andare via non mi interessa voglio andare via sono super stufo basta 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 non ci sono non ci sono Sì, sì. Eccolo lì il cosa Per decettivare il drone Ma onestamente non è che mi interessi qui di tanto Poi vado a fare Per fare la maestria delle armi Facile da uccidere Andate giù con tre colpi Meglio di così Non si può Vediamo il catacombe Riscuotiamo due o tre livelli No, ehi, magari, almeno uno spererei Però quello sì Vai Non ho ben capito perché tornare alle catacombe Deve esserci per forza poi un obiettivo Torno alle catacombe perché Devi andare da Maria o da Dimitri Ok Allora, vediamo un attimo di consegnare Uh, perfetto Ero molto felice Molto bene ragazzi Questa schwarze box Mostra la posizione di uno dei bunker Dove i nazisti costruiscono i panzer Un'altra missione Raggiungetelo E fate a pezzi i comandi di assemblaggio dei cani nazisti Ok Dammi la missione Dai Beh Niente mission Ok Pensavo mi disse qualcos'altro da fare In realtà no Tu su Certo Fatta Sono felice che ci siate riuscite ragazzi Anch'io Voi due siete davvero delle persone fantastiche Lo sapete Ah ma mia 13.000 è così poco ci dà La settimana scorsa una delle nostre spie è stata giustiziata Aveva preparato un rapporto dettagliato Che i nazisti hanno chiuso in un armadietto di Brother 1 Con altre prove Andate lì Trovate l'armadietto E recuperate il rapporto Potrebbe rivelarsi fondamentale Capite Fenomenale questo Anche questo non è male Perché è meglio la corazza della vita Qua chissà Vabbè non mi importa dai Assolutamente sì E vai Certo Fatta la missione Odestamente Prego prego Quando potete Andate a parlargli D'accordo? Altre missioni da Maria Distrugge il materiale delle indagini Info Brother 3 I nazisti ci danno la caccia con più convenzione Non possono trovarci Vi prego Andate alla torre Distruggete i risultati delle loro indagini Merci Questo qua credo che sia utile Considerando che nel boss ci sono un sacco di nemici stupidi che avete visto Andate a rubare qualcosa di tecnologico per far fuori i nazisti Ok? Bene ragazzi E con questo è tutto Grazie e alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti